Cinema, video, spot, pubblicità, un solo nome. Universal Pixar Works 20 Bros Productions. Da anni la casa di produzione che è detta legge nel settore. Alta qualità? Non scherziamo, noi la sentiamo la perfezione. Utilizziamo solo attrezzature all'avanguardia. E i nostri attori vi faranno provare emozioni di una che ti ho mai provato. Ti chiamerò per sempre George. Le nostre ambientazioni e le nostre scenografie vi portaranno direttamente dentro ai luoghi di Pirati di Piano. Ah, il miglior rumore Sette Mari. Noi non ci poniamo al suo limite, eccetto il cielo. E allora, che ve lo dico a fare? Universal Pixar Works 20 Bros Productions. Vabbè va, finita sta farza? Namo a... Grazie.